Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Jack e benvenuti in Nerd Week. Ma prima di cominciare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale di Screen Week, cliccare sulla campanella per star sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv. Gli Oscar 2019 si stanno sempre più avvicinando e sentiamo parlare di nomination immeritate tra Black Panther, Boy Me and Rhapsody, insomma cose che capitano ogni singolo anno. Ma volete sapere quali sono stati dei primi Oscar davvero davvero assurdi? Bene, ecco, oggi sono qui per parlarvene. Quindi oggi vi parlo di 5 vittorie premi Oscar davvero davvero assurde. Mi raccomando però, non voglio sminuire la performance degli attori, la qualità del film in sé, la bravura del regista. Voglio dire solamente che l'Academy ha fatto in alcuni casi delle scelte un pochino azzardate. Facciamo un salto nel passato, 1942. Tre candidati alla migliore regia erano presenti John Ford per Com'era verde la mia valle e Orson Welles per quarto potere. Immaginate che ha vinto quell'anno proprio John Ford. Nulla da togliere a questo grandissimo regista del western. Ma siamo seri rispetto a quarto potere? Direi proprio che l'Academy non ci ha azzeccato in questo caso. Rimaniamo sempre nella categoria miglior regia, ma nell'anno 1972. L'Oscar va a William Frednick per il braccio violente della legge. Fin qui tutto bene, no? Direte voi. Ma se vi dicessi che dall'altra parte, sempre candidata alla migliore regia, c'era Stella e Kubrick per arancia meccanica? Beh, allora forse qualche ripensamento ce l'avete pure voi, no? Direi che anche in questo caso l'Academy è un pochino sbagliato. Parliamo invece adesso della categoria miglior film e siamo nell'anno 1981. Il vincitore di quell'anno è Gente Comune di Robert Redford. Un film ottimo, assolutamente. Ma forse non tanto meritevole contro due film come Elephant Man di David Lynch e Toro Scatenato di Martin Scorsese. Direi che anche questa sia una vittoria abbastanza assurda, non trovate? Passiamo all'anno 1999, un anno dove sono successe le peggio cose, delle cose davvero assurde, delle premiazioni abbastanza impensabili. Su diversi aspetti e su diverse categorie, ma adesso andiamo con calma. Come miglior film vince Shakespeare in Love, che già di per sé non è una gran notizia. Ma se poi dobbiamo paragonarlo a Salvate il soldato Ryan e alla sottile linea rossa, beh, c'è stata proprio un'ingiustizia. E continuando con il 99 e con le ingiustizie, parliamo della categoria miglior attrice. Infatti parliamo della vittoria di Gwyneth Paltrow, sempre per Shakespeare in Love, che già di per sé è abbastanza assurdo. E oltretutto, se dobbiamo confrontarla con altri candidati, come Cate Blanchett per Elizabeth, allora è davvero un'ingiustizia. Passiamo invece adesso a tempi più recenti, precisamente nel 2003, nella categoria miglior film. Tra i candidati aveva un film come Il Pianista, Gangsta New York, Il Signore degli Anelli e le Due Torri, The Hours e Chicago. Secondo voi chi ha vinto quell'anno? Sì, proprio Chicago. Un musical carino? Sì, ma rispetto agli altri candidati avevano dei film grandiosi come Il Signore degli Anelli, Gangsta New York, Il Pianista e anche The Hours, se voglio ammetterli in questi termini. Direi che anche in questo caso l'Academy non ci ha proprio azzeccato. Queste sono le mie opinioni personali, ditemi voi che cosa ne pensate relativamente a queste vittorie di cui vi ho appena parlato e scrivetemi nei commenti altre vittorie secondo voi un po' meritate durante la cerimonia degli Oscar. Io mi chiamo Jack, mi trovate su Instagram e su YouTube come Il Canale di Jack, dove parlo di cinema e serie tv. Noi ci vediamo il prossimo giovedì con un nuovo video per Nerd Week e mi raccomando, seguite la cerimonia degli Oscar 2019 e seguitela con noi di Screen Week. Ciao!